miracoli della guerra c'è un paese vicino a roma dove la gente ha gli occhi scuri i capelli scuri e la pelle olivastra è un paese molto piccolo in aperta campagna e la gente dice che nessuno ha i capelli biondi lì o gli occhi blu infatti tutti gli abitanti del villaggio discendono da due famiglie soltanto e tutti hanno gli occhi e i capelli castani senza eccezioni purtroppo l'italia entra in guerra e si allea con la germania i soldati tedeschi con i loro occhi azzurri e i loro capelli biondi pattugliano il territorio italiano e arrivano anche al piccolo villaggio gli abitanti del villaggio italiano sono attraenti alti di statura e con dei bei visi e hanno tutti dei begli occhi scuri e capelli neri le belle ragazze del villaggio ornano i loro bei capelli neri con belle mollette e fermagli di corallo rosso e di osso e sono molto belle le ragazze dai grandi occhi marroni si sposano con altri abitanti del villaggio però quando vedono una jeep militare dei tedeschi passare sorridono e salutano i militari tedeschi rispondono sempre al saluto e sorridono alle belle donne castane del villaggio come sarebbe bello se nel villaggio ci fossero uomini e donne con gli occhi blu e i capelli biondi come quelli dei militari tedeschi dice mara alla sua amica sonia si risponde sonia arrossendo se preghi dio esaudisce quello che chiedi davvero dice mara allora da adesso in poi prego per avere quei begli occhi blu tra di noi abitanti nel nostro piccolo villaggio anch'io prego e chiedo a dio di realizzare questo desiderio risponde sonia poi le due amiche si sposano e si sposano anche molte ragazze del villaggio con gli uomini del villaggio la guerra finisce i tedeschi tornano in germania e seguono giorni di pace dopo poco tempo moltissimi bambini del villaggio nascono con gli occhi blu e i capelli biondi come non credere nei miracoli